Viola, ho già anticipato in parte quello che fate. Sì, grazie, grazie dottoressa Gelisio. Intanto buonasera a tutti. Innanzitutto desidero ringraziare la Fondazione Simbola, in particolare il presidente Ermete Reallacci per avermi invitato a questa tavola rotonda. Come diceva prima il presidente Robiglio, l'Italia è un paese povero di materie prime, però non è un paese povero di ingegno. Un po' la nostra storia aziendale, e non solo la nostra storia aziendale, ma anche la storia del nostro comparto industriale, quello dei produttori di pannello toccolari italiani, riprende un po' questo concetto. Nel senso che la nostra azienda è nata nel 1963, è stata fondata da mio padre, e ha avuto una svolta green importante, come diceva lei prima, alla fine degli anni Ottanta, quando nessuno parlava di economia circolare, di green, anzi, diciamo che la nostra scelta era una scelta coraggiosa che ci ha portato ad utilizzare, anziché il legno vergine, che era presente un po' sulle rive del Po, dove noi viviamo, ad utilizzare una materia prima secondaria, che, come dicevo, alla fine degli anni Ottanta, era rappresentata, per esempio, dagli scarti delle segherie, quindi era una materia prima seconda, che era abbastanza pulita. Oggi, invece, siamo in grado di riutilizzare qualsiasi tipo di legno, e con qualsiasi tipo di, diciamo, contaminazione, anche fisica, grazie allo sviluppo di una tecnologia particolare che oggi tutta l'Europa ci invidia. Volevo ricordare che l'Italia oggi ha il primato del riciclo del legno nel mondo, cioè l'Italia è il più grande riciclatore di legno al mondo, e paesi come gli Stati Uniti d'America, come la Germania o la Francia, stanno cercando in tutti i modi proprio di seguire l'esempio italiano. Proprio recentemente, qualche mese fa, abbiamo concluso un accordo di joint venture con una società tedesca che si chiama Reinspan, produttrice di pannello truciolare, che cercava, ha accettato di cedere il 50% delle proprie quote azionarie, perché cercava un partner, e poteva essere solo un partner italiano, che lo aiutasse in un percorso di svolta green, per l'utilizzo di legno di riciclo. i più grandi produttori del nostro settore, oggi europei, non sono in grado, come noi, di riciclare il legno, ma utilizzano ancora legno vergine, e sono diventati gruppi di grandissime dimensioni, leader in Europa e nel mondo, ma ancora oggi, diciamo, non raggiungono il nostro livello di eccellenza nel campo del riciclo. Prima si parlava del primato dell'Italia nel campo del riutilizzo e effettivamente insomma, dobbiamo constatare che anche nel nostro settore questo è assolutamente vero. Ecco, ma che vantaggi vi dà a voi utilizzare materie seconde rispetto a chi usa quelle vergini? Ecco, questo, la domanda che mi fa mi permette di introdurre un concetto importante che è il concetto di economico ed ecologico che vanno insieme, vanno a braccetto, perché nel nostro caso l'utilizzo della materia prima e seconda del legno di riciclo al posto del legno vergine ci dà anche un vantaggio di tipo economico. Addirittura, all'origine, diciamo, di questa scelta c'è stato una necessità economica e di disponibilità di legno che non c'era e questo ha aguzzato il nostro ingegno e ci ha portato ad una scelta di questo tipo che, ripeto, non è solo una scelta etica ma è una scelta etica ed anche economica, anche proprio dal punto di vista dei costi perché il legno di riciclo oggi costa meno rispetto al legno vergine. Immagino che i competitor che non sono arrivati ancora a utilizzare materia seconda non siano in grado di farlo ancora e stiano cercando di capire come perché non è facile, bisogna cambiare anche i processi produttivi, cioè un conto è usare materia prima vergine, un conto è quella di scarto, fare la selezione, dico una cavolata, i chiodi, gestirli nel legno. Esattamente così, al punto tale che oggi che abbiamo fatto questa scelta anche dal punto di vista impiantistico, noi abbiamo dato una svolta proprio ai nostri sistemi produttivi, non saremmo più in grado di tornare indietro e di utilizzare legno vergine. È paradossale ma teoricamente l'utilizzo di legno vergine dovrebbe essere più semplice rispetto all'utilizzo di legno di riciclo, in realtà avendo cambiato proprio strutturalmente tutti i nostri impianti e la parte tecnologica oggi non siamo più in grado di tornare indietro. Ed è proprio la barriera tecnologica che lei citava è quella che sta impedendo ai nostri colleghi europei di seguire questa strada. La leva economica è una leva ovviamente fondamentale che ha spinto tante imprese verso una maggior sostenibilità ma anche la leva del marketing e del posizionamento sostenibile è premiante ormai. Assolutamente tanto è vero che dicevo prima quando siamo partiti tanti dei nostri clienti così mostravano qualche dubbio sul il fatto di di poter inserire nei loro nei loro mobili un pannello un pannello riciclato pensiamo a grandi marchi italiani che producevano mobili di stile di design diciamo di importante valore dicevano ma come faccio a mettere nei miei mobili un pannello fatto con gli scarti oggi questo è un plus anche nel diciamo nelle gare pubbliche per esempio il Consif assegna a un mobiliere che utilizza pannello riciclato un punteggio più alto quindi l'essere ecologici oggi è un vantaggio anche dal punto di vista proprio dell'immagine del marketing e anche nella preferenza del cliente certo per fortuna è cambiato il mondo è cambiato il mondo